buongiorno a tutti e buon martedì benvenuti sul mio canale tutto dal web lascia il mio like se il video ti è piaciuto e attiva la campanellina per non perderti i prossimi aggiornamenti e video anticipazione e spoiler la promessa pia finalmente darà alla luce il suo bambino che sarà in perfette condizioni di salute ma di lei però non si potrà dire la stessa cosa visto che durante il parto ha perso parecchio sangue infatti pia lotterà parecchio per potersi riprendere una situazione che metterà a dura prova il medico abel improvvisamente però nel palazzo accadrà qualcosa che sconvolgerà l'intera sop e sì perché il bambino di pia sparirà nel nulla e nessuno saprà che fine abbia fatto il piccolo l'intero palazzo infatti inizierà a cercarlo e sarà una corsa contro il tempo anche perché tutti vorranno impedire che la notizia arrivi alle orecchie della governante ma soprattutto ai signori del palazzo chi ha rapito il bambino dove si trova e perché questo ragazzi lo scopriremo nelle prossime puntate della promessa nel frattempo se vi va come vi ho detto inizio video iscrivetevi al mio canale per non perdervi nessun'altra anticipazione ciao e alla prossima